Loro ci parlano di rivalutazione del territorio, ci parlano di cose buone da fare, da investire nel nostro territorio. Sono tutte belle parole, ma come si sa queste belle parole possono rimanere nell'aria. Le proteste, i monitoraggi e gli appelli del sindaco e dei residenti di Carrara. Va avanti il progetto per la centrale elettrica che ha creato malumori e preoccupazioni. Ieri sera a Casa Betlem, Terna ha raccolto le stanze dei cittadini e dell'amministrazione comunale di Fano sulle opere compensative e mitigative correlate alla realizzazione dell'elettrodotto in cavo interrato e della stazione di conversione dell'Adriatic Link, finalizzate ad una migliore integrazione delle due infrastrutture con il contesto territoriale. Riguardo alla stazione elettrica esistente, Terna ha confermato che i tre ATR verranno sostituiti entro dicembre e che il compensatore sincrono, attualmente spento, sarà attivato solo in caso di emergenza o di criticità elettriche che dovessero riscontrare nell'area. L'azienda ha inoltre comunicato che il programma di protezione acustica dei macchinari attraverso l'utilizzo di strutture fonoassorbenti è già stato avviato con l'obiettivo di concluderlo entro i primi mesi del 2023. D'altra parte i residenti hanno avanzato le loro richieste e le perplessità relative alla propria salute. Sono mesi che tanto si va avanti a trattative, non sembra che si smuovano verso quello che noi vogliamo. Ormai il fatto che il progetto si farà è fuori di dubbio, però ovviamente la sicurezza che le nostre case, le nostre abitazioni, il nostro territorio venga rivalutato come loro dicono, quella non c'è. Per fortuna nel nostro gruppo di residenti c'è una persona molto competente che ci sta aiutando perché ha già affrontato questo problema sulla centrale di Cepagatti in Abruzzo e proprio in questo incontro l'unica cosa veramente interessante che si è rilevata è il fatto che questi residenti a Cepagatti abbiano avuto dei problemi. Problemi messi in evidenza durante l'incontro e che preoccupano e non poco gli abitanti. Appurato il fatto che non si può in nessun modo stoppare questo progetto, ovviamente l'unica preoccupazione che sorge è quanto saremo sicuro una volta fatto. Per cui cerchiamo a questo punto, attraverso questa persona molto competente che ci sta aiutando, cerchiamo con lui di vedere se è fattibile un trattato, una carta scritta, da una qualsiasi trattativa che viene firmata da loro e da noi residenti per far sì che queste cose vengano rispettate e per mettere al sicuro le nostre abitazioni. Si parla di una linea da 380 che passa 120 metri da casa mia. Il signore, il direttore, ha fatto la citazione che una radiosveglia tutti i giorni emette più microtesla di una 380 kV, come lui ha detto. Ma per fortuna, sempre questa persona molto competente, gli ha anche fatto notare che la radiosveglia a 50 cm da noi già non fa più quel raggio di potenza elettromagnetica. Per cui pensiamo di stare a 100 metri da una 380 che manda continuamente questa energia. e vediamo poi se ci sono questi problemi. Lui è sicuro che non ci sono, ma noi non lo sappiamo. Per cui la speranza è che una volta fatto questo lavoro effettivamente vengano rispettate le cose che loro stanno dicendo. Ma sembrano tante belle parole messe sul piatto sbagliato.